Bella a tutti ragazzi e benvenuti finalmente al nuovo episodio su The Walking Dead Prima di cominciare voglio dirvi due cosette perché non è che mi ha andato fastidio assolutamente Anzi è una cosa che mi fa molto piacere Sulla pagina Facebook, su Twitter, su Instagram mi avete scritto tutti che volevate ieri Il nuovo episodio su The Walking Dead Non ve lo portavo perché ho preferito portare tre video Cioè quello di FM naturalmente, la carriera giocatore che non portavano un po' E la videocarriera come al solito, quella giornaliera Con me siamo quasi all'episodio numero 100 Allora, oggi vi porto The Walking Dead Domani se ho tempo vorrei provare a rifare il doppio episodio Di The Walking Dead come un paio di giorni fa quando al ragionamento di 600 mi piace Nel suo giorno vi portavo un altro episodio sempre su The Walking Dead Ma non lo so, fatemi sapere voi se lo volete domani Quindi iniziate a spollicciare subito e vediamo di arrivare almeno a 600 like anche per questo video Buah, adesso è tutto pronto, possiamo andare a cominciare e continuare la nostra magnifica storia su The Walking Dead Allora, praticamente ce l'avamo lasciati con l'ultimo episodio Comunque trovate la playlist qui sotto in descrizione E trovate anche il sito per comprare i giochi sempre qui sotto nella descrizione Ce l'avamo lasciati con la scoperta Avevamo scoperto Chi era... Cioè, chi è Molly, davvero Abbiamo scoperto davvero tante cose Adesso sappiamo... Oddio! Molly! 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 Scusate Ah, ok, la batteria ce l'ha Ho avuto paura Comunque siete stati molto bravi Siete bravi perché non state spoilerando nulla Anzi, mi scrivete dei consigli, delle vostre opinioni Eh, lo so che sei di Crawford Molly, I know you're from Crawford What? Who told you that? I saw you on a security tape Why'd you lie to me? I said there were stories about Crawford I never said that's how I knew about it I never lied to you And even if I did, so what? I don't owe you anything You saved my life twice, but you can't tell me the truth? Are we really gonna do this now? I guess that's up to you I used to live here with my sister She was 14 years old When the dead started walking and Crawford shut itself in It seemed like a pretty good deal at first We were safe We had everything we needed to survive Then the rules started coming down No one who couldn't justify their place Or in their keep No one who required special care My sister was diabetic And by Crawford's rules, that made her liability I kept it a secret Kept her safe for as long as I could But in the end, I couldn't protect her That's when I got out Crawford They always talked about how their system worked How anything was better than And becoming one of them But I saw what they'd already become I just wish I could have seen it before It was too late Before they came and took my sister away This is all I have left of her I didn't have time to take it before I got out of Crawford I just wanted it, okay? I just wanted it, okay? I understand She's pretty I just wanted it, yeah? I have to go I have to go I'm here You're here What the hell are you here? You're here Cosa c'è? Dov'è Clementine? Ma meglio di niente per aprire la porta Che idiota Che idiota non ci credo Che testa di cazzo Ben Ben è un idiota raga Ben è un idiota È un idiota Ben Molly vai vai Occhio Molly Sì ma Se non mi fate mirare Ah l'ho preso Brava stella Che comunque raga Molti mi hanno detto basta mirare alla testa e muoio Non lo sapevo naturalmente Non è che non me li fa prendere a posto il gioco Perché miravo verso la testa Ben è un idiota Ben è un idiota Ben è un idiota Ben è un idiota Sì sì esatto Ben Abbiamo parlato di questo No Aspetta Voglio sapere cosa ha inteso Che significa che è tutto il tuo culo? Kenny Sono molto scoperto Sono molto scoperto Dico che non abbiamo tempo adesso raga Lo facciamo ucciderlo Che non mi hai fatto Che ha fatto un corso No 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 È stato io Tengo tutti Mettiamo tutti In danger Caccia E' Duc E' 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 no rompì il culo dopo riusciti esattamente raga fa solo le casini che su qualsiasi messi nella merda a lui marco c'è pensata che è un ragazzo è un aspetto a me o un ragazzo prova capirlo Però no, perchè Clem è molto più furba di lui, Wendy. Metti le ruote. Per me va benissimo. Certo che si. Questo è il mio voto. Secondo pensiero, credo che mi sarò per rimanere. Lee? Scusate Ben. Ho bisogno di fare quello che è meglio per il gruppo. E questo significa scattarti. Raga, comunque siete tutti d'accordo? Mi avete scritto tutti. Prima posizione di amm... Oddio! No, ciao. Ciao, tata. È andato. Buonanotte. Avevano fanno. Ma Ben quindi è rimasto lì? No, è ancora con noi. Non si può più dare la porta, è venuto che ti vieni spallato. Cosa stai facendo, Ben? Speriamo. Comunque Ben non è ancora con noi. Eh, io ho detto di lasciarlo qua. Tutte eravate d'accordo? Chiudi la porta subito. Lì, non perde il tempo. Speriamo. Comunque Ben non è ancora con noi. Allora... Teniamo d'occhio alla porta. Se aprono... Oh, via andare. Dai, fatemi sparare. Ah, ma spari da solo? S per tornare via. S per tornare via. Allora... Dai, uno è andato. Due. Dai, dai, dai. Morite pezzi di merda. Via. Oh, ma questo qua? Ok. Dai, dai. No, porca Eva. No, oh, oh. Come si fa? Alzati. Alzati da qua. Alzati. Ti prego lì. Ti prego. Alzati lì. Sei incastrato. No, no, no. Oh. No. Ma mi ha ammazzato così. Se il solito qua va per liberarla. Guarda in alto per... Ah, ok. Ma spiegatemi le cose. Ok. Sono caduto. Quindi devo fare così e poi sparare. Allora... Allora... No, ho sbagliato ancora. Devo stare allo sguardo con... Ok. Vai, muori. Dai, veloce, veloce, veloce. Torna su, veloce. Stai giù. Eh, ma quanto ci metti? Comunque c'ha molta fame, c'è da dire. Ok. Riproviamoci. Allora, una volta e poi guarda su. Veloce. Dai, muori. Torna giù. Torna giù veloce. Vai. Rialza la camera. Torna su. Muoviti. Ok. Torna giù. Veloce. Dai, ma ci metto un botto comunque. Torna su. Dai, che abbiamo più tempo adesso. Abbiamo più tempo per affittare la gamba. Vai. Staccala. Dai. Torni dietro senza cadere un'altra volta, possibilmente. Lì. Oh, c'è anche su. Qualcuno ha sparato. Bravi. Non so chi è. Comunque complimenti. Brava Crista. Ogni tanto qualcosa di buono fanno anche gli altri. Vai lì che possiamo farcela. Muori. Torniti da qua. Via. Anche loro. Dai. Via. Anche lui. Via. Muori. Perfetto. Lì. Bravissimo. Dispostate che devono andare su. Veloce. Via dalle scatole. No, 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 no. Ma... Ehi. Bravissimo. Abbiamo perso l'arma in più che avevamo, però... Meglio di niente. Andiamo, andiamo. Via. Tranquilla, Clem. Ci sono, ci sono. Non muoio mai. Cioè, perché posso rigiocare se muoio, quindi... Mi va bene così. Questo porta al pietro. Possiamo poter trovare un po' di qui. Non veniva in la città dalla città, hai detto? Sì. Perché? Non so. Non so, posso vedere il pietro quando venivamo qui. Credo che possiamo fare questo. Beh, cosa stiamo aspettando? Vai, vai! Boh, andiamo. Perfetto. Speriamo bene. Sì, però, c'è però, raga. Bene ancora con noi perché alla fine è successo il casino, quindi... Come on, let's go! Le campane. Oddio! 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 これ èalling bene! I ,驚! Devo per forti, runwww Devo per forti, run! Cosa faccio? Non ho, non hai tempo. Jagunn! Godù! Cosa faccio? Raga, le tap可以 лег and all the others, and you out of here! Ah Kenny Kenny mi ha detto in qualche parola O lo fai fuori o no Comunque ci vediamo dopo Ah io non sto facendo Lasciala andare Raga forse ho preso l'audizione più difficile Che alla fine non penso tanto Perché raga non si è mai fidato Ha fatto morire la moglie di Kenny Il figlio perché alla fine è tutta colpa sua Ha lasciato un sacco di volte la sola clan Poteva succedere qualsiasi cosa Quindi ho deciso così Ho deciso di farlo morire So che magari qualcuno non sarà d'accordo Anche se nei commenti presenti Tutti mi avete scritto la prima occasione possibile Fatelo morire Fallo morire Omid Mi sa che è andato anche Omid Morto anche lui E Clementine Stained Oh ma è vivo No non è stato infettato allora E infatti a parte il fatto di sua moglie e suo figlio Ha tolto anche la maniglia E Clem però Ci è rimasta male Non davanti al clan Non davanti al clan Andiamo Andiamo Vediamo cosa vuole il vecchietto Vernon E infatti a parte il vecchietto 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 che si è costruita la mia vita ora guarda un minuto no, tu ascolti hai alcune persone qui e si sembrava a te come il loro leader e io sono qui per te raccontare il tipo di leader che tu sei non mi farò più tardi e tu sei scherzo se pensi che mettere loro in un pote risolvere nulla ora tu non ti preoccupi su tutte queste persone ma io lo so che ti preoccupi su quella piccola che è per questo mi farò te fare un offer ma assolutamente no ma assolutamente no ma scordate non ti darò mai Clem ma non scherziamo ma vattene via Vernon ma vai via no no sia sicuro mi farò che non hai detto nessuno di questo e ti darò una chance di andare fuori che tu dovresti fare ora io lo so che credi che hai fatto quello che è meglio e se tu fosse il suo padre non ci saremmo questa conversazione ma non 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 solo un altro uno dei tuoi lievi quella piccola è nella mia cura ci siamo passati più insieme che puoi immaginare nessuno che tenta di andare tra me e lei nessuno sarà morto ti senti? raga non potevo allora non potevo dargli Clem naturalmente cioè assolutamente no non scherziamo davvero cioè Clem adesso sarà sarà rimasta male perché ha scoperto che io ho lasciato andare Ben alla fine Kenny poteva anche non dirlo in sua presenza però beh Kenny sapete com'è è impulsivo non si pensa molto a queste cose hey sei andato? sì sto parlando di andare solo volevo dire grazie per tutto è stato divertente e forse dovresti venire con noi Kenny sta lavorando sull'船 adesso pensi che eravessi venire con noi Dio sa che lo avessi ma no Molly mi ero innamorato di te ma no Molly mi ero innamorato di te Molly mi ero innamorato di Molly e Molly è andata via siamo sempre da soli niente andiamo a parlare con Clem che adesso naturalmente non starà benissimo per aver saputo quella cosa che io ho fatto Kenny sta lavorando sull'船 lo so cosa faremo dopo aver riposato dove andremo? dove dice Kenny? era un pericolo per tutti noi devo farglielo capire perché comunque non è stupida non è stupida Clem non è stupida quindi ho fatto una decisione e ho lasciato lo so che sembra ma ho dovuto pensare tutto il gruppo non solo una persona ma sono solo una persona non per me non per me piccola però non piangere hey there shhh it's ok it's ok it's ok don't cry ahia no non c'è più Clem e non c'è più la no non c'è Clem e non c'è la radina sul tavolo no ti prego dimmi che non è scappato ti prego vi prego no 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 ma non c'è nessuno in casa? Clementine? Clementine! Dio porca Eva muoviti di ma tipo non puoi correre mai tu nella vita no no vai sempre così piano no 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 raga l'hanno rapita penso oddio oddio ma vaffanculo ma vaffanculo che infarto no 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 No, ragazzi hanno morso Nascondere il morso per adesso No, ragazzi scomparsa Se è stato Vernon ti giuro che se lo troviamo lo uccido Mi serve avuto per trovarla Noi rimango da idea che lei è incinta comunque, ragazzi Fa quello che devi fare Grazie, Kenny Grazie, che bella cosa, ragazzi Ma quante ne sono successe anche in questo episodio? Oggi raga, poi quanto è passato? Mi sa che a me ci fermiamo qua perché secondo me è mezz'oretta forse già passata Fermiamoci qua, lasciamoci con un po' di suspense Perché dobbiamo scoprire che fino a fatto Clem Dobbiamo scoprire se è stato quel vecchietto di Vernon Siamo stati morsi, è morto ben, ho lasciato morire ben Quindi fatemi sapere davvero cosa ne pensate lasciando l'hashtag come al solito sempre al tuo fianco qui sotto E in più scrivetemi dei consigli o comunque fatemi sapere se avreste fatto le mie stesse scelte Inoltre non spoilerate che è una cosa molto importante perché chi spoilera verrà bloccato Mi raccomando iscrivetevi al canale se lo avete ancora fatto per non perdervi nulla di tutto ciò che pubblico Passate anche i link che trovate qui sotto in descrizione perché sono tutti i miei social da Instagram Che uso tantissimo, Twitter che uso veramente tanto Dobbiamo arrivare velocemente almeno a mille follower Dato che siamo in pochi però siete tutti molto attivi E poi ci sono tutti gli altri social Adesso è tutto, noi ci vediamo dopo con un prossimo video Mi raccomando fatemi sapere se domani volete il doppio episodio